ma che cazzo negativo che cazzo sta facendo quello ebrei perché là dentro oddio oddio che cazzo è certo che lo vedo oddio cos'è sta cosa che mi è passata che cazzo è che cazzo è che cazzo è è Maximilia non sono quello è vestito buona la sera è vestito buona la sera lo hai detto anche tu Maximilia anche no la Lucia Diana che l'ha riprodotto cazzo lontana vabbè c'è lì qua che minchia con me sei lontano ascoltami oh cazzo lì ti react proprio adesso vedo tutto ma il silenzio maledio porca troia Alex cosa cazzo sta facendo che schifo ma c'era l'interno tutto il fondo era tanto doveva ma cazzo ma c'è sta succedendo è finita non so quanti di voi sappiano la storia della città di quello che è successo negli scorsi mesi e farla in breve c'era un uomo un uomo vestito di bianco era vestito di bianco e ognuno che lo riguardava provava a avvicinarsi o sviniva o insomma non riusciva ad avvicinarsi troppo perché c'era qualcosa che non andava a un certo punto è successo che quest'uomo ha richiesto un carice un carice che possedeva una setta che era in questa isola una setta che alla fine viste le minacce dell'uomo in bianco che apriva buchi neri e faceva risucchiare le persone faceva dermare hanno deciso di consegnare carice a un uomo bianco io e altre persone abbiamo formato l'occult team l'occult team originale era composto da me Gabriele l'ingegner Mattiori e Giorgio Cataratta e successivamente si sono uniti altre persone Zack Ronnie ora avete visto quello che sta succedendo ci sono alieni che volere oggetti per non so quale scopo e non so neanche quale sia scopo di uomo in bianco due fazioni gli alieni ci hanno attaccato e in un certo senso anche un uomo in bianco bisogna capire ora qual è il mare minone ci abbiamo avuto un discorso con gli alieni ci hanno scansionato non so cosa volessero ci hanno dato una meta stranamente era il tequila grande scarlet comunque qual è il fatto è che uno di loro è sceso dalla navicella e ci ha parlato con una voce sembrava la nostra molto ammaggio che sembrava la nostra ha detto che cercava la madre ha detto che non voleva il nostro aiuto ha detto che non combattevano contro uno in bianco non sanno cosa stanno facendo sta a noi a tutti noi decidere da che parte schierarsi queste queste sono un'informazione stanno chiamando scusate sì ma quindi sono contro l'uomo in bianco perché lo chiamano ora in realtà essere già stata appresa come ci ha presa da chi scoprile per tutti gabriere ed era morte avere deciso di consegnare gli oggetti all'uomo in bianco quindi una decisione soprattutto io main ci ha salvati le linee erano arrivate ci hanno sterminato ci hanno raccontato che ci ha fatti come cazzo che ha fumato troppo poteva andare in bagno fa un po invece aiuto l'ultimo amuleto è il cuore che dà potenza alla nave madre se riuscite a prenderlo dovete posare l'amuleto con tutti i presenti ragazzi con calma quindi hai mentito sul fidanzamento hai mentito sul sesso ma gli l'ho ufficializzato ho detto sì 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 sei sicuro di che partire il che sei una testa di cazzo scrivicelo vabbè quella è intonizio io faccio parlare voi no guanita devi dire la verità porca puttana di che stai scherzando che è tutta una burla riguardo che non so più cosa dire abbiamo consumato dentro i laboratori humane ma che consumata con prima colazione dentro la gabbia dentro la gabbia probabilmente c'è finito per caso perché eravamo troppo stretti che cazzo ridi che cosa c'è finito per caso scusate niente quello che penso io no allora attaccheremo l'astronave e fare vedere i mezzi pronti solo brambilla raccoglierà l'oggetto tutti gli altri dovranno coprire coprire questa faccia qua guardatela tutti a costo di prendervi un raggio laser per lui non deve morire sia il sicuro brambilla io vi ho voluto bene anche al pilota pilota come si chiama? maximilian ti voglio bene maximilian grazie ci vorrà un mille gas ti voglio bene ma è ma lei sa guidare un elicottero si ma sta andando indietro si è il temporale è il temporale è il temporale e sta dicendo che ma chi è parlo non c'è perché non c'è il segreto devo difendermi qua vado spapi li patto tutti la corsa come ho fatto prima vieni dai dentro avanti popolo dentro dentro senti quell'altro è diventato sono fermo sono fermo ci penso io cazzo ma puzzano te piscio piano piano perché gli stai la frese la frese oggi ha vota pompetta uno aspetta un attimo aspetta un ricordino vediamoci dietro ragazzi qualcuno che vede dietro la frese la frese è andata è andata è andata siamo andati fuori fuori dai ti ho aspettato gli altri sono andati grazie guanita allora vedi che sei la mia ragazza che cazzo dice si papi si ma fai culo no mugiami bonnie glielo dici bonnie sono la ragazza di dale come terremoto che bucio di culo salvare il mondo vieni qua vieni qua vieni ma che vuoi ma come un abbraccio poi ci vuole abbiamo fatto una cosa buona vero stronzo di bar sì 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 beh dove puoi rifarsi spero si avrete ci invitato ma come ma come vabbè l'amicizia ok romagnolo quanto sei bella ecco finalmente è finita e se si voglia bene porca bastardo un abbraccio Oh, asia di Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.